Uno showroom sempre più accogliente, ricco di proposte e con tante novità per il commercio e l'abitazione. Franco Scale, a due passi dall'uscita del casello autostradale di Senigallia, ha rinnovato i suoi locali e nei 100 metri quadrati di esposizione presenta una vastissima gamma di modelli di scale ed altro. Franco Scale, nome conosciuto da 30 anni nel panorama marchigiano e nazionale del settore, grazie alla firma di garanzia del suo titolare Franco Cicetti, è rivenditore Fontanotte ed esprime design e qualità. Da Franco Scale è una straordinaria varietà di prodotti d'élite, tra geometrie, materiali e tonalità, per scale su misura in tutte le configurazioni possibili, rivestimenti in legno e ringhieri in acciaio inox, ferro, cristallo e ghisa per scale in muratura, soppalchi, pavimenti flottanti in laminato e legno, zanzariere e tende veneziane, inferiate di sicurezza, infissi in PVC, porte a soffietto in legno, servoscale mobili per interno ed esterno, scale e accessori in ghisa. Specializzato nella vendita e nella messa in opera di tutti i suoi prodotti, Franco Scale vi garantisce la sua presenza nell'effettuare gratuitamente il sopralluogo, le misurazioni e il preventivo di tutta la sua gamma. E se non bastasse ancora, oltre a qualità ed efficienza, Franco Scale vi garantisce un rapporto qualità-prezzo straordinario. Franco Scale, rivenditore della ditta Fontanotte, lo trovi a Senigallia in via Giordano Bruno 79, sul web www.francoscale.it